Un saluto a tutti gli ascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci che si intitola Il teatro della commedia, Dante e il genere drammatico di Pier Mario Vescovo che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite a quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo teatrante letterario, chiamiamolo così. Prego professore, a lei. Grazie, allora io una volta insegnavo letteratura italiana poi sono passato a storia del teatro, adesso direte questi sono affari miei però insomma c'è una linea di di mettere insieme interessi di questo tipo. Allora, cos'è questo libro? Non è un libro sulla teatralità di Dante, sull'utilizzo teatrale di Dante che ha una tradizione molto ricca, riguarda una cosa in particolare, diciamo così che è un riflesso dantesco di una cosa che avevo studiato qualche anno fa in un altro libro che si intitolava A viva voce, percorsi del genere drammatico che è uscito da Marsilio nel 2015 che riguarda una storia del cosiddetto genere drammatico. Ecco, il genere drammatico secondo una definizione che parte da Platone che poi attraversa attraverso i grammatici tardolatini, poi arriva nella letteratura medio latina, nella letteratura medievale e poi avanti nel tempo, definisce quel tipo di discorso in cui i personaggi parlano, diciamo così, e l'autore sta zitto. Questo è quello che dice Platone nella Repubblica. Allora, in questa storia del genere è drammatico, ci sono testimonianze molto forti in questa direzione, diciamo, dei due altri grandi personaggi della letteratura italiana del Trecento che sono Petrarca e Boccaccio, entrambi ne parlano. Non abbiamo nessuna riga, ahimè, su questa cosa di Dante, però la domanda è se tra le varie interpretazioni possibili per il titolo di Commedia possa essere in parte almeno pertinente anche questa definizione. Ora, questa cosa la tira fuori Boccaccio, commentando Dante in tarda età, e propone oltre alle due tipiche direzioni per spiegare il titolo di Commedia, che sono una direzione stilistica, Commedia identifica uno stile distinto da un altro, forse uno stile che ha a che fare anche con l'uso del volgare, e un'interpretazione allegorica, invece, la Commedia ha una disposizione che comincia in maniera negativa e finisce in maniera positiva. Questo è quanto è scritto peraltro nell'Epistola a Can Grande. L'Epistola a Can Grande è un testo che fa ancora litigare i dantisti, io non sono un dantista di professione, e quindi diciamo che l'interpretazione allegorica è ancora un'interpretazione che desta critiche e dibattiti. Ecco, poi termino, e Boccaccio però in mezzo cita proprio in questa sede la possibilità che ci sia anche una spiegazione intermedia, che secondo lui non è sufficiente, che riguardi proprio il genere drammatico, cioè quel genere composto da dialogo. Ora la Commedia è effettivamente un testo non interamente dialogico, ma se prendiamo una matita, un evidenziatore, lo sottolineiamo, la parte dialogica è una parte consistentissima. Quindi questo è un po' il mio, il punto di partenza di questa, di questo tentativo di ricognizione. E quindi credo che questa sia una linea pertinente. Io credo anche all'autografia dell'Epistola a Can Grande, quindi credo che queste tre interpretazioni, e naturalmente quella allegorica è quella più forte, ma anche un'interpretazione intermedia, modale, di forma del discorso, oltre a quella dunque stilistica e a quella allegorica, sia pertinente a un'analisi della Commedia. Un potere di sintesi fenomenale, ha riassunto in pochissimo il contenuto di un saggio bello adesso. Quindi io le chiederei di entrare un po' di più nel suo volume, per farci capire meglio cosa... D'accordo. Cosa lo tiene. Ci provo. Allora, questo era il più facile, diciamo, perché questo è il punto di partenza ed è l'arteria principale del discorso. Poi accanto a questo, a partire da questo, ci sono altri sviluppi. Allora, io avevo scritto un altro... io mi sono laureato, peraltro, in gioventù con un dantista che era Giorgio Padoan, però non ho mai praticato Dante nei miei anni giovanili, quindi Dante è quasi un interesse semile, diciamo così, anche io ormai ai miei anni. Un libro precedente era, che si chiama Il Tempo di Dante, ed è uscito da Salerno qualche anno fa. Era un libro dedicato alla temporalità della Commedia, che è un tema naturalmente anche questo vastissimo, che ha fatto versare i proverbiali fiumi di inchiostro. Quindi, una determinazione, chiaramente, che riguarda il tempo di Dante scrittore, quando Dante scrive la Commedia, un tempo di Dante personaggio, quando Dante passeggia per l'oltretomba, e secondo me però anche un tempo intermedio, che non coincide esattamente col tempo della scrittura, cioè quando Dante ambienta un po' il canto, il discorso, il momento in cui ci parla, che non necessariamente coincide col tempo reale della scrittura. Ora, tra queste due dimensioni si svolge anche qualcosa che ha a che fare col rapporto autore che scrive o autore che canta, che recita, e qui c'entra il teatro in qualche misura, e l'autore che in questo caso è anche un personaggio che attraversa lo spazio e il tempo e dialoga con altri personaggi. Quindi un po' questa prospettiva, diciamo, questo libro continua anche un po' questa strada. Quindi le direzioni del teatro sono due almeno, e poi ci sono altre partizioni, altri sentieri. Una è quella che ho cercato di riassumere prima, cioè una forma del discorso che è prevalentemente dialogica. Al tempo di Dante ancora non è chiara la distinzione tra i testi teatrali e i testi narrativi, e quindi per Dante l'Eneide è una cosa che può stare dalle due parti. Con la generazione di Boccaccio questa cosa diventa molto chiara. Però oltre a questo c'è anche questa enunciazione che l'autore quantomeno finge di fare come qualcuno che ci intrattenga nel discorso, canti questa vicenda. E per esempio c'è una persona con cui Dante ha a che fare mentre scrive Il Paradiso, che è un giovane lettore, quindi un uomo di scuola, di università, Giovanni del Virgidio, che lo invita a scrivere, a lasciare il volgare, a scrivere in latino, a dedicarsi a temi più alti, e più o meno gli scrive Sei un grandissimo poeta sprecato e lo paragona a un cantore di piazza. Ora non è che Dante andasse in piazza naturalmente a cantare la commedia, tuttavia qui c'è un'altra forte relazione. Dante è un cantore di piazza? No naturalmente, però la commedia ha anche questa forma per cui noi ascoltiamo mentre preleggiamo, fingiamo di ascoltare il poeta che non solo vive questa vicenda come personaggio, non solo la scrive, ma ce la racconta, ce la enuncia. E peraltro, sempre a Bologna, c'è uno dei primi commentatori della commedia che fa un discorso di questo tipo, che chiama la commedia quel genere che i comici intonano in piazza, quelli che cantano in parole povere i poemi francesi, le avventure cavalleresche. Allora, io credo che non dobbiamo, come dicevo all'inizio, sovrapporre un'idea retrospettiva del teatro a Dante, che non poteva averla, né l'utilizzo naturalmente pienamente legittimo della commedia come serbatoio per la scrittura drammatica, per la drammatizzazione, ma provare a vedere quali potevano essere le idee che Dante o al tempo di Dante si avevano sul teatro e vedere se queste due direzioni o questi due meccanismi che ho indicato sono rapportabili in questa via. Ecco, quindi una teatralità che riguarda l'enunciazione, una teatralità che riguarda il contenuto e la forma del discorso. Questo mobilita però ha anche due idee di tragedia e commedia. Dante chiama commedia, comedia, alcune volte, soprattutto nell'Inferno, il poema che sta scrivendo o che sta cantando, e chiama tragedia invece l'eneide del grande personaggio, del grande poeta che lo accompagna nell'aldilà che è Virgilio. Ecco, io credo che anche per le questioni di prima, che avevo brevemente toccato citando l'epistola a Can Grande, che la direzione stilistica non esaurisca affatto il piano del rapporto commedia-tragedia, cioè ci sia un'implicazione chiaramente della forma del discorso, del livello stilistico, del tipo dei personaggi, ma anche di cosa ha scritto Virgilio e cosa ha scritto Dante e che tipo di direzione dunque il poema di Dante indica. È un discorso intrigante, è una prospettiva di lettura un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Io spero diversa, naturalmente non è diversa in un senso che voglio sostenere delle cose opposte a quelle che sono state dette. Spero che questo sia un discorso recepito come un'integrazione che naturalmente nulla toglie alle cose, alle tantissime cose che sono, alle infinite cose che sono state scritte, almeno a una parte di esse, quella per cui così provo più attenzione ed ammirazione, ma che provi anche a integrare con questa direzione. Ecco, in particolare, per esempio, citavo adesso quando Dante chiama o fa chiamare a Virgilio la sua tragedia, è nel momento in cui nel girone dove stanno gli indovini, eccetera, Dante chiede a Virgilio ma c'è qualcuno davanti a questi che passano che è particolarmente degno di nota e Virgilio gli risponde tu che conosci tutta a memoria la mia alta tragedia, quindi che la sai verso per verso, ebbene c'è un personaggio che sta passando che si chiama Euripilo. Ora qui adesso è complicatissimo districare questa cosa, le fonti di Danti e così via, però, per esempio, qui mi sono chiesto, ma perché se la direzione di opposizione o di differenziazione tra commedia e tragedia, comedia e tragedia dovrebbe essere stilistica, c'entra Euripilo? E perché Virgilio addita Euripilo? Perché non secondo Virgilio che nomina appena Euripilo nell'Eneide, ma secondo Dante le fonti medievali che precedono Dante, Euripilo è insieme a Calcante colui che ha fatto la previsione della fine di Troia e quindi qui c'è iscritto un destino, una finalità propriamente tragica e quindi secondo me gli altri personaggi che poi vengono, quindi a questo soprattutto mi sono un po' dedicato, quindi il saggio forse è un po' più infernale che purgatoriale e paradisiaco, una serie di personaggi della storia greca o della leggenda greca antica che per Dante è storia, mescolandosi con i moderni, con i personaggi del tempo di Dante, additano proprio questa strada, quindi abbiamo Ulisse che non sta all'inferno perché ha violato le colonne d'Ercole o altre cose, sta all'inferno per l'agguato del cavallo di Troia, abbiamo Antenore, abbiamo una zona dell'inferno che prende il nome da Antenore e così via e quindi questa direzione di una storia antica che passa, che parte dalla distruzione, dall'assedio, dalla guerra di Troia e che poi attraverso Enea, che non va in paradiso ma sta nel limbo, come dire, con la disseminazione, la congiunzione, la fondazione di Roma e tutto quello che porta fino ai temi del tempo di Dante, questa è una storia dove tragedia e commedia si contrappongono non solo in una direzione stilistica ma anche con qualcosa che riguarda quello che Dante pensava fossero i generi antichi. Ecco, un po' dopo Dante chiamare tragedia o tragedia l'Eneide non sarà più possibile ma al tempo di Dante l'Eneide può essere una tragedia sia in un senso che contiene una fitta parte dialogica e sia soprattutto per una direzione stilistica naturalmente ma anche per quello che stavo brevemente cercando di riassumere perché narra la storia della distruzione di Troia, della fine di Troia che è tragica e della fondazione di Roma che poi ha una continuità che riguarda i temi poi dibattuti, i temi laceranti delle guerre del tempo di Dante, il suo esilio, la sua condizione e così via. Ecco, questo è diciamo un po' il punto d'arrivo spero di questo discorso sul teatro. C'è, cito brevemente, il primo commentatore al tempo di Dante qualcun altro, anche persone che avevano in antipatia a Dante e che Dante aveva in antipatia tipo Mussato che si rimette a scrivere, a rilanciare il genere tragico, fa un'operazione in qualche modo analoga e opposta a quella di Dante. Ecco, tuttavia anche Mussato che dentro alle Cerinis, alla tragedia che racconta la fine di Ezzelino da Romano, ci mette delle parti descrittive, quindi non è un testo totalmente dialogico per quello che dicevo prima. C'è il primo commentatore che si chiama Nicholas Trivet, che è un frate inglese che abita in Italia, scrive il primo commento alle tragedie di Seneca in cui sottolinea questa cosa per me fondamentale. Sono completamente dialogiche e l'autore non parla e ancora dice in questo modo, d'ora in poi dovremo chiamare solo impropriamente tragici i grandi poemi come l'Eneide, i poemi di Stazio e così via. Ecco, Dante viene un po' prima. Penso che Dante abbia letto le tragedie di Seneca, però non ha razionalizzato compiutamente questa cosa che sapranno, che so, suo figlio Pietro, che la scrive all'inizio del suo commento, Boccaccio e persone della generazione successive che invece hanno completamente distinto il campo dei testi in cui l'autore non parla e invece il campo dove queste cose accadono diversamente. Ora Dante ha fatto una stupenda, straordinaria commistione di questi due elementi. Quindi ci sono i personaggi che dialogano, c'è Dante personaggio che parla con gli altri personaggi e c'è Dante autore che racconta e che forse canta e che ci trasmette il contenuto del suo poema. Non si finisce mai di scoprire questo individuo che viene da domandarsi ma come da dove è sbucato fuori. Grazie a Dio la letteratura ha una serie di autori che non si lasciano consumare nel tempo. Un altro è Shakespeare, per esempio, ho dato per citarne un altro, caro al mio cuore, e ovviamente abbiamo ancora da fare, da sdipanare, da provare a vedere qualcos'altro. Ecco, questo è un po' il... Io a questo punto consiglio vivamente l'acquisto di questo libro di cui ricordo il titolo Il teatro della commedia, Dante e il genere drammatico, di Pier Mario Vescovo, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro ospite, che ce ne ha parlato, appena pubblicato da Carocci, e quindi andate, correte in libreria e fatelo vostro. Io ringrazio tantissimo il professor Vescovo per questa chiacchierata. Per l'attenzione, è così pronta, perché peraltro non ho ancora ricevuto il libro che l'editore ha detto che mi ha spedito, quindi è proprio... Stiamo sul pezzo, sì, sì. E quindi noi vi ringrazio anche per l'attenzione e anche per la velocità, diciamo, in senso buono, in senso positivo. Il suo piacere è super ringraziato, io ringrazio lei. Quindi ricordo ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte queste video presentazioni e arrivederci alla prossima. Grazie. Grazie, arrivederci, arrivederci a tutti, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.